Buon anno, bentrovati, sono Giorgio Appoggio, amministratore delegato di Aprile UK. Bene, Babbo Natale ci ha portato il 24 dicembre l'accordo tra Regno Unito e Europa. Accordo che avevo previsto in un mio video precedente e avevo spiegato anche il perché l'accordo era imprescindibile, perché l'accordo sarebbe avvenuto, l'ho spiegato con numeri alle mano e guardando i numeri finanziari delle importazioni e esportazioni della Gran Bretagna e dell'Europa si capiva che tutto quello che stava succedendo era una sceneggiata politica, ma che in realtà l'accordo ci sarebbe stato. Se non ci credete andate a vedere il video. Bene, finita l'autogelabrazione del 2021 andiamo avanti con il nostro video. E il nostro video oggi parla dei dazi, cioè come non pagare il dazio, visto che c'è l'accordo, quali sono gli elementi che servono per non pagare il dazio all'importazione in UK, o meglio ancora, visto da chi esporta, come non far pagare il dazio al vostro importatore britannico. Tre, gli elementi che andiamo a vedere. Il primo, che la merce esportata deve soddisfare i requisiti per ottenere l'origine europea. Bene, i requisiti sono molteplici e ve ne parlerò in un prossimo video. Il primo che mi viene in mente è che la merce sia prodotta in Europa, o nel nostro caso in Italia. Ma ce ne sono diversi e quindi vi andremo a vedere tutte le sfumature annesse. Il secondo, che la merce esportata deve essere spedita direttamente nel Regno Unito, quindi in UK. A tal proposito, vi ricordo che avevo parlato di gestire forse la supply chain per i primi sei mesi in maniera differente da come avevamo fatto nel corso degli scorsi anni. Avevo parlato di quello che si sarebbe verificato a Dovera, Calè, le code interminabili di camion in attesa dell'uscita. Tale situazione si sta verificando, non era difficile da prevedere, devo dire anche questo. E a tal proposito vi invito a rivedere la vostra supply chain, a valutare altri modi di trasporto magari anche più economici. Ad esempio l'intermodalità o il trasporto via mare. Qualora vogliate una valutazione gratuita della vostra supply chain, non fate altro che scrivermi a brexit-uk.aprile-net.com Torniamo a noi. Il terzo elemento è che l'esportatore deve fornire una valida attestazione di origine all'importatore UK. A tal fine, l'Unione Europea richiede che l'esportatore unionale sia registrato al sistema REX. Che cos'è il sistema REX? Ve lo leggo. Il sistema degli esportatori registrati è il nuovo sistema di certificazione dell'origine delle merci che l'Unione Europea sta progressivamente introducendo ai fini dei suoi regimi commerciali preferenziali. Bene, chiaramente non tutti gli esportatori sono stati in grado di registrarsi al REX dal 25 dicembre in poi, visto che eravamo nel pieno delle nostre festività. infatti, tenuto conto dei tempi necessari per registrazione, gli operatori economici non ancora registrati al REX potranno indicare in un'autodichiarazione il codice EORI unitamente al proprio indirizzo completo da inserire nel luogo, nel campo dove c'è scritto luoghe di registrazione. Dunque, questa autocertificazione la potete scaricare direttamente da internet, se inserite nel vostro motore di ricerca la parola circolare 49 barra 2020 automaticamente la troverete molto semplice da rintracciare. Con questa autocertificazione sostanzialmente voi dichiarate che la vostra merce è di origine europea e conseguentemente all'arrivo in UK con la certificazione, con i vostri documenti fatti bene, abbiamo già parlato della fattura, di che cosa serve e quant'altro, a questo punto potremo noi di aprire, ma tutti i vostri operatori sdoganare correttamente la vostra merce, non pagare il tazio e trasferire l'IVA al pagamento trimestrario, bensì la seconda del pagamento del vostro importatore. Bene, per ora è tutto, vi ringrazio per aver visto i miei video in tantissimi, vi ringrazio per i vostri commenti e soprattutto vi auguro ancora una volta buon anno. Ciao!